Buongiorno fiorellini, fiorelline, ho tirato adesso l'acqua perché sono il bagno e dove devo andare a prendere la pensione. Oggi è il 2 settembre, perché il primo era di domenica, perciò il 2 settembre andiamo a prendere la pensione. Tanto che è notte ancora, ci tocca andarci presto perché se no c'è tanta gente e perciò ci tocca andarci a quest'ora, ma già ce ne saranno. Va bene, ci vediamo dentro la macchina, ciao perché è notte. Sono ritornata, ma c'è luce perché c'è la luce qua sopra, dove sta la luce, perché se no non si vedrebbe niente. Ciao Jim, Tobi, perciò laggiù devo accendere il telefonino, guardate quante notte. Vedete quante notte, devo accendere il telefonino, qua c'è Jimmy sta dormendo, qua c'è la luce e perciò vado giù con la luce. E qui è Tobi, devo accendere la luce del telefonino, guardate che tempo, sei proprio giovane, ma è nottissimo. Vedete quante notte, per farvi vedere quante notte, ecco poi ci diamo la luce. Ecco, adesso andiamo giù, ma è finito il gas, è quasi la benzina. Mamma mia, mamma mia, devo vire in pensione, non è che c'è tanti soldi. Ci siamo riusciti a fare tutto il mese, però la parrucchiera mia mi ha detto bravissima, ecco comunque. E vabbè, piano piano. E stiamo andando giù la posta, perché tocca andarci presto perché ci stanno sempre i vecchietti, fanno prestissimo, vanno pure alle 5 di mattina. Io sono le 6 e 7 di mattina e perciò c'è da quest'ora. Anzi, quando andrò dal dottore a dicembre, gli devo dire che mi è cambiata qualche cosa, perché se io non mi faccio lo sfrutto la mattina, appena mi alzo, neanche posso pulire. E io so, mi vedete bene sui video, che riesci a respirare bene e robe così, però io me lo faccio con quello spruccio che mi devo fare sempre a vita, ormai. Ecco, poi ci fermiamo un attimo e aspettiamo. Insomma, io se non mi faccio questo spruccio, speriamo che non si spegni questa cosa, perché non so se si spegni dopo un po' che sventerà con il capo. Se non mi faccio questo spruccio, io non riesci a respirare, invece io prima mi alzavo, pulivo, alle 6 mi facevo lo spruccio. Feci adesso, no, devo farmi subito lo spruccio appena mi alzo, se no non riesco proprio a pulire. Se sto a letto e ho un ventilatore puntato in faccia, allora posso, vorrei, non farlo alle 4 di mattina. Ma se non c'ho più ventilatore, io non c'ho più aria, non c'ho... Eh, un casino. Penso che ce l'ho grave l'asma, penso. Beh, io ho avuto l'emboria pormonale, forse dipende, l'emboria è mai avuta l'asma, perché mai ho avuto l'asma. Con le sigarette sono state, non lo so. Però io prima invece l'emboria pormonale respiravo, non lo so, però già ci avevo un po' rovinato i polmoni per le sigarette, non lo so. Per l'emigrania invece soffrivo dell'emigrania, ma non mi prendo niente, ho certi dolori qua, forti. Però io mi prendo la pasticca per non farmi venire l'emboria pormonale, perciò sono dolori, dolori, e poi mi si passa, basta che mi massaggio la testa così. Non so, perché è duro, non lo so proprio. Io sto aspettando, ci vediamo dopo quando ho fatto a casa. Ci salutiamo, ciao. Prima di casa facciamo, andiamo a fare un giro qua, perché così vado a pacchetto bene, dopo andiamo via, mi va a mettere pensiero al gas, e basta. Comunque, questo è fatto giorno, fa più giorno di prima, però comunque il tempo è calato tanto, perché prima era più... Si faceva giorno prima. Sì, vabbè, comunque... Adesso andiamo su, non si sta faggionando. Stanto che oggi è un po' nuvoloso, boh, non lo so. Vabbè, ciao a dopo. Adesso abbiamo finito questo video, spero che vi è piaciuto, e ci vediamo domani con un video a spesa. Ciao.